Alle elezioni amministrative l'Italia dei valori intende dare una scossa di novità. Vogliamo portare all'interno delle istituzioni, in tutti i comuni, in tutte le province dove si votano. Vogliamo portare giovani, donne, lavorare per il ricambio generazionale. Succede che voi quando andrete a votare troverete delle liste con tanti nomi. Noi per ognuna di queste persone nella rete mettiamo il suo curriculum e anche la sua data di nascita. Aiutateci. C, molti dicono che bisogna dare spazio ai giovani. Noi li abbiamo candidati. Nelle nostre liste, in tutti i posti dove si vota, ci sono tanti giovani, tanti giovani, femminucce e maschietti, soprattutto preparati, competenti e dalle mani pulite, perché i giovani sono gli unici di cui si può fidare davvero. Allora, un voto ai giovani e alle giovani è un voto per una giovane Italia, ma un'Italia nuova, bella, pulita, trasparente, che abbia qualcosa da dire, da dare per il futuro. Grazie.